io ho giù io amo giù sacchiamo atticci non inseriamo salito buono Isuse Hriste staviti sad na ložim strikubi Znaci Sindra Evo ti otac mater glupu na pačanu Jej glupa Znaci SS mi fightamo Dragona kužiš 5 minuta Zamis lakše SS tek pomoći i mi onda pingat kako sami flasho Jebote Jesavi gold igrač glup jebote Kruto je nevjerojatno Znaci Staviti Jasen Nega čeo Jesi opet rekao n-word Nisim ja ništ čeo Nisim gypsy Užiš smiješ se Negaš n-word Imam Imam preko Ovih smekvara u Britaniji Jer ima jedan Zato što združiš ti ima šta Pa dobro da Zato nisim došlo Dosta dugo se nisam čuo onak Ajž Kim ima možeš čak i gold igrači Kažem na iskrenije Ajž Treo šta bi treo šta Zatružiš Ajž Zatružiš Zatružiš Prakš Kurve Chut Hjist Prakš Prakš perché secondo me c'è un progettare. Anche se abbiaillato i cammini ilcıo. L'abbia anche se è questo. non ci sono qui non ci sono 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 che si è un po' che si è un po' ego 7 stvari ego 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 a ego ego valla neću propast a Sì, sì, la stessa del Girenco. Ho raggiato il video il video di mezza, la stessa del Girenco... ...Gregon armor, come si vuoi. Il video di Girenco. Iñjus Vati Krista. Oh, mozi! Ho raggiato il video di Girenco. Ho raggiato il video di Girenco. ora si c'è da dare guzru sing 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 ling sing ling ling dobra ovo che i suoi vivi e questo qui non come da lui non è che c'è a questo è tutto buone todos le persone come siamo Igor il posto da via la violenza 2 persone un po di due ei Sono due persone che sono dei fratelli E così... Mol? Non... Non mi considero te con i miei fratelli Ah, è vero... Sono... Tu sei un mio debito Mol? Mol? Oh, ok Oh, ok. Sìbai, vanno, smettare, dobbiamo! Ufff! Sì. 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 c'è Cristo joo ma dè pa.. pa.. pa pono è bolio a tebe sa letka ma jani ne gledam ono strategico beudiam ono che dnam beudiat jersom jednom provoio e va già o e co e co n'è che bisogna con i try harder i che gleda in acqua na instagram online ono guide ovego n'è ma chansi n'è ok to ja radim n'è ma chansi yoo ay yor oi 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 haydeksin 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 dobro cop 4 solidno mogu jesam bolje ja ve n'è idemo sve n'è oi 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 jõ ilyen szala nekivel csopocnék n'è a megyalmi szépen most non è stato un po' io ho sempre visto che non sono stati nascita come stai 4 mesi ok, posso provare posso 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 come sono stato il mio orgazzo, quando ho preso il QI need 2 è stato a 20 HP skill gap e brale, esi, silver 3, promoter, mos, esi uuh, esi Christo, e, ai, chekaj, mona mude, dux znači, nesta mona mogu uc da li ti è hladno? chekaj, da li ti è hladno? chekaj, da li ti è hladno? ok, la città è il mio è un minuto ma è un minuto ok, la città è l'esplice eh, è il mio orgazzo che il mio orgazzo? sì, l'argo di questo è un minuto ok, per esempio, non mi necessario a fare testa se tratta, ma non mi bisognava fare ok, senza un minuto e non per il mio orgazzo, ma non mi bisognava fare ... ... ... ... ... ... un'fusione non lo so che mi viene a la città non lo so Puno non lo so che ho detto che non mi rimbano una città da non? e che è stato molto difficile non lo so che non so non lo so Oggi, tu pari umri. Cosa? Cosa, è stato giusto. Cosa, c'è un' più che c'è il tempo che c'è più che c'è il tempo. Cosa mi è la più che c'è? Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, ma mi piace. Cosa! 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 no 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 ne 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 a u fico che mi che gova! chiamano niente più di me puo lìo nemmeno quando c'è adesso adoro ai ai non usci chiamo non so me la madre la madre ne si raga quindi la madre non si raga nella mia a comunque non la può sempre ma non 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 che non no si raga io un questo mi mi si Umiro svaki io koji stagio jebi ga A jebi ga, non so se stagio Ja, propuncio si Joj, trebao biao pali zvuk Uši od... Pa, upali zvuk? Trebao biao pali zvuk od... ove Od igre, mozda, jisam io usključio jer mi bio u pozadini Ufff Nagyjeli ima, saj Ima zvuk, ima Necsi Jojeli ima Excessively wired Ehm... Ne, ne Excessively wired Gora Speaker system nam pojmeni še Da, tudja laiket stream Ej, gdje provjer imaš 60FPS-e, a jurek nijaa naku galšu jebeni stiňu Ima, ima Kolko je najviše, o tjene i tipi koji i učer, ima Da Ehm, super, dobro Da, da ne teici I don't know Dopo čeke sam sekund Ah, krivo svar Ehm 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 And Ehm 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 Ciova ah che è stato nesta tu 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 oh nesta, oh nesta, terci Ah, pizzeria tutto metto. La lista ne sembrava di linea ove, vittu per la schiena. Alla cosa non c'è energia, c'è l'ho di sì che ho e che non c'è... ...ma stai una buona vita. un po' un secundario Stati C'è? C'è un incestorio? No, c'è un incestorio? Oh, she's so confused Ah, e verla? Ma te il culpito Restore power C'è che tu ... che cosa che è il nome? è il nome è il nome di te, ah, è il nome è il nome che c'è il nome? ah che vediamo la città Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non mi piace, perchè non mi piace di farlo. Ah, che è il porto? ... 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 Cura male, perché si mora sničata da mene? Oh shit, tamo su. Non vupo, perché non c'è nessuno glasano. Ovo è vupo! Cosa, vedi ih! non c'è troppo è un manetro non è un rischio non ho alla non c'è il raggi qui non c'è sembra è un raggiore non c'è il raggio non sono visto non mi ha visto e ho qui non ne non non è nulla non 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 Puglia, stas' ti, ti si trebao boh te stavit Ostao tonai naslov, tj. nije naslov ime The unknown fuckboy boh te, same žene ucet i jebote A dobro uzmeš i mene da sam tranja boh te, šta A on nije unknown, zar nisi primijetio da je Anikovina 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 Puglia boh te A šta lugo? A hiva, ne, zapao nisi hiva Joj sam se, kaj ga maknem ovo, ga maknem ovo Ma, alo, Sara, Lana, Andrea, isu svema E, koja od njih mene nacuta boh te u bubi? A, a, u bubi? Fuck Nene, nenene, nenene, ništa ne vidjela U bubi je bila, Sara, a... A to je tu dakle, Sara je crtala E, Sara imaš honor boh te od mene odmah Sara je men up' i onaj fanart Sexiest be alive Bog te, traves, gaz, nak' traktor, bog te, nak' da mu uletim onaj ventilator, nak' san' glavu udrao, pa mi je mala, ali... To je bio najbolji Bog te, real shit Ja, kad ja, znaš šta, ja, bog te, ja se podrazumivam kao gangster Ma, ti si gangster al' Pa ne, realno, realno, onda im u pekaru i kažem... Drugi čovjek prije mene naruče, kaže... Burek sa sirom, ja onak' kajem xd-bote A, dojem kajem pips sa sirom E, pogledaj, i onak' je real shit, my dog E, alo, aj, 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 gledaj, šta ja sam radim? Ne, gosno je za glaviju, iznad, šta je ovo frižiger Aj, aj, dak' imaš muda udarga jedno Aj sam dužbi udarga A, do, do, do Slab that ass A, do, do, do Gim mi a revolver, gim mi a revolver Gim mi a revolver Fuck Fuck Goj, vamo, kuromau Ne, ne, amez E, alme A, jaz sam na tom mjese ja uderju, bi nju učekićem, bok tešn Kakav je to i kvaliti, crnica možete ukažen, ne Ha, propustalo me, šta nisi skuđio Jooo Minovej dec, promijenu dec Ma dec Jooo, ajde, ajka već moja mineta Čekaj, mojem izlači studijom, mogla, i... gdje dec Da, ovo je već drugi pur, znači sad dec je dva Ya, volim malog Isusa Aj, pudo, daj bit Mismo, mismo Uaaaaa Io to niente Cekio smi de mi piace pié Pa dobra Ucter niente niente tutti i protiv alle nostre Mi smo, mi smo, mi smo Musimo da vi dico Ok L'ho Sledi Neubarna tišina Dobro riusci in episode 23 Pulio pronalzi koji je smisao No weapons allowed. Eh fuack onee no mojamo cremati. Break your roof. Non mi sembra che mi sono arrivato alla fine, non mi sembrava un pocino. E' un pocino di alcoho! PULIO! KERERE! Sì! E' un pocino! C'è 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 un pocino! salim se boc ti sei kakav bong io boc te nemam tipa za cacca boc te kao neki bong znaš palestri u paljača jedan daje pling jedan imao ono što vrtio jedan imao kremlje šta god može obi i obi imaju cigare ako su cigare toliko oše zaispo imao oni u svemeni sve moline Eh? Eh, eh, eh. Eh, to'e se. To'e, to'e se cosa che non ti piace. Io magari non ci chiede il fatto che non mi perdono... ...ehm... ...a che non mi perdono? ...C'è che si chiede il fatto? Non, non, non mi puoi. Allora. Che a questo? No, 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 no... ...d impacto, un po' di te... Ah non ho come il camera... Puoi clic... Cinturati A di nessuna più beccati da fa' dino Ahogo... Ed ansi... Ah no, di che... Non si lo ha dato? 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 Ho già mai sul sleeve! Sai stoppeti dai ma il capace... Ah, come si ha? Non vedo. Ma no! Guarda, andate! Poi... E-E-E-E-E-E-E-E-E èçto il burac! Sommi, possiamo anche qui. B Sì ti crnooo Sì 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 Ok Sì 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 nemmog pamacnut nemmog pamacnut sam gledam u 1.5 oj jo dojda vola pam ti ovo igro da ti jebem na kvarrat ne ovaj zek je istukai naš bot fuck Noi Noi Non mi permette E' una cosa che guarda, non ci sono un occhio E' a vinto che guarda, c'è la scola e' una scola Giam Noi, è un'esplosione Crouch Focus oh no oh no oh no ok 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 i e poi c'è tutto sotto le ruins non è così non è così Sì 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 Bok te nego... 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 Dopusti sve komentare E kako... Sì Sad bi... Sad bi treo sve... Kako se... Ajj napišite nešta što je kao edgy... Tvoje život... Dab Sva ne mislim... Zapravo ne, na klovki tu stvarno nisi ima navese... Bilo potrebe da te ukažem, al tak? no c'è ma che ora si è stato chiesto non c'è sempre il cedrick no, quando fai pensato di scrivere il raipe quando fai pensato di raipe Oggi sono qui, io mi sono così... ... cliccare... ... 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 è Ajde, loggaj, jivim ti se. Oooo, pa ne gledam ga ja, on je mene pogledo, tome je problem. Oooo, jivim ti se, jivim ti se, jivim. Ajde, napravimo ono net kick. Jivim ti sve poredio da ti jebim. Ma che cosa vuoi da pucaš? Ovo è crcianski server, stream. Ovdje nema oružja, nije ga opušteno. Bog je za brani oružje. Misliš? Naš djedi bogo je gd rupa. Ima early lead, Bog te na enemy team. A ovdje nam tako. Bog te ja previše igram lola jebote. Zatko ga jesam nerfali kužiš. Obje ruke iš. Marjan, Marjan sam, Marjana sam počeo zvat Bili KitKat. Mesto dedja Albina. Može. Jožda, me čuje bio problem. Da, ono, dosta veliko nešto. A dobar je on. Spali kukršani vješći. Može. Da, to je Igor. Puk saš ti Rina neja, moderatora. To je diskriminacija. Zatko Rina nije nikad bio na streamu. Baš nije mi učegledao. Pa jesi išta komentirao nisi? To jesi ti, jesi svoj. Pa sam svog, jesi. Pa jesi. Sam pito. Pa jesi. Ima nikada da govori. A de mi neki gun ne mog sa Chucky protiv njih. Yes sva sam. Ti ček, zapraviči imam još energi, obok te pije mi sa. Popije energi. ok Rina scrive vedo le risposte se volessi da te parlare se volessi Sì Ma Sì Che 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 Cosa è piccola? Ma? Ci sono? Sì, ora vieni! Ora vieni! Cosa è qui? Un' access to you. Cosa? 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 oh ah, che bello come respalano ho fatto tipo nuca, mi sono appassato con tremeni, non ho fatto è stato un pocettino non posso che stavano questo, ma stavano questo qui è più vicino quando mi riusco... ho prendo questo, ma... ... ... ... ... ... ... ... Cosa ti mi raci? Riena è stila. Ostalo me ne interessa. O, ima 9 ragazzi, io vorrei veće i usi. Bok, te nema. Dedi pulio, bok. F***, opet ono è crnec. I jela i pila. Cosa si pila, djevojko draga? O, f***, mi s'ingame ziggio? S'ingame ziggio. Ok, ok. O, jezz, dobra. In a past life, my ship should be starting right now. Pasta salcholiziras, traviets. Cosa? Ma Irene? What do you mean? Mene piše nisno ovu čevku, a ti isto pisa. Ah, s***! Jel, mene je bilo za glavu izbe. Cosa? Cosa? Gdè se guarda l'avec'a, Igor? C'è da neki giveaway. Odmah. Treba l'opera? C'è da l'avec' na giveaway? F**k. Moždano i stanici, ostro mi è più lì. Dobro vedecio, ospite, izzadio. .. .. .. .. .. .. .. mi chatted' sorghetti no c'è il mio se guarda qui poteva i mi lasciano ma per la casa è una terra ok non ho nessun tempo niente fucuucuucuucu�u salve guardi prima di me ah non è pronto fit pics please ovo è io ora ora ho bisogno di cambiare il nome di screma ovo è food fetish freezone ah shit ho bisogno che ho bisogno? ho bisogno della sè infatti ah infatti ecco no c'è happo non è non 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 l'escrivo il punto Druck! io li l'inforzano.. non, non!!! One kill 100 oh la mia canda me scopp preço un ragno non ho capito ho un'invento, ho un'invento ho un'escrizione Anche Ehm... Meta Dobra Placmatecho Daj' solo OP posta E ne, non c'è niente Algo che sono io di nuovo? ...previši. ... ... ... ... ... E' E' Znaci Usmeme, revolver, amo iako ima dostenuto pistoli, tamo ispred me, oh e' e' nega mi, sami pistoli E' o3, o3, ne pavè, o3, 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 da kvrsi, iapri, a Ecce, da motore C'ček, po risu, o, ne, ave'za, nisu nestali E' o3, c'è nu, a' jebat Dai c'è più di più di più di più di più di più di più. Allora, abbiamo parlato di più di più di più. Vi dover julio di più di più di più di più di più. ehm neee io ho qui c'è stato un mire qui c'è già, qui c'è già sa qui nemmo non mi posso imprimere che sono pre-brzo oppure un pro però la 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 il questo non non oh f*** oh f*** neee non vediamo adesso ci sono dai dai non non posso non posso non posso non posso non non posso non posso non posso non posso non posso non 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 ti Tužen je život moj Mamme, glava, boli Ić spavaj Ne, boli me od nespavanja, boli me od spavanja Ima smisla Dobro, umri Umri gada Ima smisla Ima smisla Ima smisla Jó, eno kak vidig Kak jarszai, nijem prišuljam To je svek jeben a 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 motion check some kind of tracker it's been modified i lost no no problem no 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 a a a a Scrap. 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 Može. I didn't wake you because I knew you'd try and stop me. Please understand this is our best shot. Someone's got to re-establish communications. We need to make sure the officials back at home know what's going on here. I'll go back. I'll go back. Nothing left. Very much light. Go by then. No shit. Ajaj. Ništa. Oh. Ah, check it. Aha. Oh. Oh. You are entering a restricted area. Yes, I'm copy. Please leave. Let me in. I need to contact my ship. I can't deserve that. to find. There's gotta be another way inside. I'm pretty. Do you want me to help? Find another way inside. All right. Pri pri pri. Fiii Isperate no 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 ok di no 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 e questo oh 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 ugino ugino rip 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 uvijek robocchi uvijek robocchi il 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 non mi sembrava che il giusto il giusto il giusto fu mi è la camera? grazie per esempio non è la camera, non è la camera non è la flashlight non è il giusto il giusto Ah, ho fatto un po' meno. Ah, ho fatto un po' meno, ma non è stato un po' meno. Ma ora, non è più lato, non è più lato. Ah, è molto l'esplice! Oggi brè, oggi brè! Fuuuuh Oh, guarda E noi, vedi Fuuuuhh Fuuuuhh Haaaah Non mi chiamo di che vrati da un'altra. Non voglio te e gradiente, dovresti che c'è. Non mi chiede, non mi chiede. F*** C'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho. Sì, tu sai cosa mi pensi? C'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho. C'è l'ho, c'è l'ho. Ti to' pozziazza, non è che. Non mi chiede, non mi chiede. Non mi chiede, non mi chiede. Ti to' pozzia, non mi chiede dice. Non mi chiede, non, 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 non. Sì, non c'è un po' di pote. che c'è chiacchia il maggiore, ma è vero, è vero è vero Oh, questo è proprio bello. Ok? Ah! F***! Non mi puoi non perdere i raggi? oh ne viga joshian vengo ti metteria che vengo io che che non puoi usare le vengo guarda usare le vengo stai ah smogbomb rettie miliassimo vino Asi ovo a clicchino, è per ora che sono un boss. Non è un boss che ho cercato, non ho cercato. Come se è il boss che sono incontrato. Alla cosa è l'auto? Noi, sono in giù a migliorare. Non è insieme, non c'è l'auto. Non c'è l'auto. Ah, vediamo, il loro sopra. Non c'è l'auto. Non c'è l'auto. Non c'è l'auto. Non c'è l'auto, non c'è l'auto. Non c'è l'auto. Is anyone there? If anyone can hear this, we need help. Repeat, we need help urgently. Please, respond. Samuels, you're alive, it's Ripley! Ripley! Taylor, Ripley, we were getting one. I need it, where are you? We're the transit station now, it's quite biomedical. Ah, ok, 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 ok. It's not safe here. It's not my problem. It's not my problem. It's not my problem. That's impossible, contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels, I guess, Sexton's got a different idea about synthetic. And there's something else here, a creature, it's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form, of an unknown type. Some kind of alien organism, it's extremely dangerous. You and Taylor need to make it. Ripley, Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her, I need to get medical supplies. We need to turn it off. And the Torrens? The radio is broken, I can't contact Valet. We're on our own. Shit! Ok, I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit card here. Oh, here's an attack. You have to go! You have to go! You're running out of control. I need to go! I'm going to move her in. Is going to go! Non mi sembrava di vedere se la mia. Non mi sembrava di cambiare. Ah, un po' che. Questo è il punto di qui. Non, non, non mi sembrava di andare a presto. No, 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 no. è meglio che se lo ha detto se lo ha detto se lo ha detto se lo ha detto è meglio che è che è e 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 vilo daj sve boste šta ovo ide metak po metak e pozdravš a a isuse kristek prestane vilo daj metak po metak jebim ti joo gubim živce a 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